Adesso a Messina dove è stata scoperta una maxi frode fiscale da 15 milioni di euro. Pensate, passaggi di denaro tra 13 società. Società però tutte riconducibili allo stesso imprenditore Nino Giordano. 15 milioni di euro evasi tra IVA, imposte sui redditi, sanzioni di interessi, un sistema articolato tra fatturazioni, cessioni, dirami d'azienda e chiusure societarie. L'operazione casse vuote coordinata dalla procura di Messina attraverso le indagini della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di 6 milioni e mezzo di euro all'imprenditore Nino Giordano che attraverso 13 aziende dislocate su tutto il territorio nazionale ma che di fatto avevano la sede a Messina aveva messo su uno schema complesso per frodare le casse dello Stato. Un gruppo imprenditoriale attivo nei più svariati settori, dall'edilizia alle pulizie, trasporti, alberghi, ristorazioni e grande distribuzione, un vorticoso giro di trasferimenti finanziari tra le varie realtà che Giordano insieme al fratello Giacomo ed una cosiddetta testa di legno hanno portato avanti negli anni solo un'analisi comparata dei flussi bancari e della documentazione amministrativo contabile delle società della Galassia Giordano ha consentito di leggere in maniera completa il sistema ideato per la truffa con il trasferimento di ingenti somme di denaro intercompany così da svuotare completamente le relative casse delle società compromettendone la solidità finanziaria. Il caso più clamoroso è quello di una società che aveva vinto un appalto per la pulizia di un ospedale a Pavia per 13 milioni di euro, casse svuotate, ramo d'azienda ceduta ad una nuova società sempre riferibile allo stesso gruppo imprenditoriale, alla cifra irrisoria di 20.000 euro fatti sparire i soldi ed un ramo d'azienda particolarmente redditizio la procedura di riscossione coattiva per i debiti erariali iscritti al ruolo accumulatisi nel tempo risultava quindi definitivamente compromessa.